Giovedì 17 dicembre, mancano 8 giorni a Natale, siamo insieme in questa 59esima puntata. Vediamo subito gli sfidanti, Michael Jackson il nostro campione in carica da due giorni contro i Mr. Big. 51% Michael Jackson che quindi acquista la percentuale che prima della pausa apparteneva ai Mr. Big e si porta in testa. Vedremo poi che cosa succederà nel corso del secondo video per il nostro campione. Lo vediamo protagonista di un duetto bollente assieme a una delle donne più belle del mondo, la top model Naomi Campbell. La canzone si intitola In The Closet, Michael Jackson.